ciao a tutti sono federica e bentornati su ritorno al futuro allora mi sono accorta che si può uscire dalla macchina io intelligentissima non avevo visto che premendo tasto b si poteva uscire dalla macchina quindi andiamo a investigare un po fuori magari c'è qualche indizio in più non te lo può dire altro da fare qua mi sa che non c'è molto però però posso dargli magari la scarpa vediamo vediamo se posso dargli la scarpa cerca indizi einstein addirittura fino a qui dove siamo ok now we're getting somewhere progressi è una parola grossa però possiamo vedere se qui c'è qualcosa no aspetta qua dove siamo perché non mi seleziona questo davvero abbandoniamo la ricerca di doc per andare a giocare videogame mi sembra una cosa molto logica ho già perso ok vediamo un attimo di qua se c'è qualcosa ecco qui c'è qualcosina ma che cavolo non ci tento più ad entrare mi urlano dietro a1 liquor like the new bars mr figgins put on the windows very secure vabbè vediamo vediamo Einstein cosa da dirci bau bau ottima domanda vabbè ci tuffoniamo e boh prova ma che cavolo ma non siamo teppisti eh non sono un teppista Einstein mi ha parlato qui chi è lei o qualcosa per lei ah dici che la scarpa è sua eh ma non possiamo saperlo vabbè iniziamo con non sono un teppista I'm not a hooligan ma'am I'm a teenager I wasn't born yesterday young man aren't you the miscreen who skateboard through the town square every morning between 8 and 8.30 and it decidedly I'm a manor uh yeah all skateboarders are hooligans it's a fact look it up vabbè però cioè Einstein mi ha portato qui che cavolo è Merv iniziamo a chiedere chi è e Strickland you aren't related to vice principal Strickland are you ma'am not that it's any of your business but I'm his sister Edna oh and you're one of those McFly slackers aren't you ma come si I mean what else has your brother been saying about me nothing I couldn't have deduced for myself slacker basta insultare ho qualcosa per lei I've got something to show you what is it let me see allora prendiamo la scarpetta di cristallo e come faccio ah così voilà e non è sua è sua mi sa che è sua grande Einstein perché la sua scarpa però è una scarpa nuova quella che abbiamo la gente si chiede cosa stiamo facendo con una scarpa in mano ma povero Einstein poverino poverino toc toc eh erano scale lunghe pericolose qualcosa che non fa no voglio sapere dov'è Doc vabbè ma io non sono un teppista teppista dove che è pieno di scatole qui sembra una che abitava nel mio cortile quando ero piccolina abitavo in un'altra casa che aveva un mega cortile no e quando noi ragazzini ci incontravamo per giocare questa qua ci urlava fate silenzio ci buttava anche giù l'acqua addosso amante dei gatti è vero c'è anche il maglioncino coi gatti allora qui c'è una foto oddio wow wow ok ecco questo tasto ti fa vedere quanti punti ci sono da esaminare rt che cacchio non so perché l'ha fatto boh cos'è oh ma dov'è il gatto scusa mi ha soffiato un gatto ma non so dov'è quell'altro di là no non le voglio assaggiare allora qui grazie in questo sei una donna gentile sì ma tu spira non sai da meno qui qui ok altre cose le scarpe sì, sembra molto lugora quella che ha lei di qui cosa c'è? no, no, di qua che cacchio dice anche ai vandali come si scrive allora, per trovare qualcosa dovrò guardare sicuramente nei giornali mi sa, non vedo altro ok, però devo farla spostare allora direi di andare qui azionare questo ok, appena lei esce fuori io vado ai giornali qui vai, vai, veloce abbiamo tutti presenti la scena non mi fa fare altro comunque ok, ne proviamo un altro e come faccio a saperlo aspetta, usa il binocolo ah no, torna di qua torna di qua allora 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 il cibo del gatto Ok Posso parlare con lei però? Ok non posso Bel binocolo No quando hai perso la sua scarpa innanzitutto No quale scusa No one likes a busybody you know Oh fine let me think about it Yes I remember I lost it in a scuffle With a dog When was it Oh yes The day that speakeasy burned down Barclandestino Frequentavi barclandestini Mi fido Fico Cosa ne sa Ne fa di tutti quei giornali What's with all these newspapers This is my personal archive I've got every issue of the hill valley telegraph ever published Get out Every single issue From 1871 to the present If it happened in hill valley You'll find it in my stacks Ok E fin qui ci sono Un barclandestino Fico Dove era? Da que ci siamo Dove era? That speakeasy That burnt down I mean That was ages ago If you're looking for bootleg hooch No I'm just curious That's all I'm a student of history Student of history My aunt I'm a student of history 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 Miss Strickland? A video store Huh? Caccio The speakeasy used to be hidden in plain sight Down there in the town square Right where that disgusting videotape Reynolds store squats today Ok The video store building must have gone up after the speakeasy burned down Abbiamo un luogo E qua va bene Bel binocolo Cosa? Madonna mia Con questo è fuori di test Quei giornali potrebbero aiutarmi? I guess somewhere in these stacks there must be an article about the speakeasy burning down Naturally I probably wrote it myself I was quite a reporter back in the day Non ci credo ma neanche Ok Basta urlare mamma mia Allora sì devo cercare Nei giornali Quindi Rimandiamola di là E va bene Vediamo Proviamo a fare una ricerca Beh come cacchio faccio a sapere l'anno Come se io entro qui Mentre lei è di là Ok Fammi vedere se ho qualcosa No Mi sa che lo devo scoprire qua Quando lei non c'è Ok Allora Proviamo a rimandarla di là Adesso provo a vedere nel cibo del gatto Che cavolo ne so Ok E quella cosa dietro? Le caramelle? Girati No Se uso il binoculo No no il binoculo no Perché la fa tornare di qua La foto Numero Ok Va bene Di qui cosa abbiamo? Proviamo a riparlare con lei Vediamo Non riesco proprio a capire Eeeh Qui Ma gliel'ho già chiesto però L'anno dopo L'anno dopo Devo chiedere a quello che ha fatto il bar Quando è stato costruito Non mi fa uscire vero? Ah si ok ok E allora dimmi L'anno Porca miseria Adesso le faccio vedere la foto di mio padre Vediamo se succede qualcosa Ok Eeeh Tacquino di doc No Registratore Cosa potrei Controllare Di qua non va vero? Ok Ok Glielo devo dire forse Spera Proviamo a dirglielo Vediamo No Non volevo dare un'occhiata Ah forse si Allora abbiamo l'anno 1932 Può essere Eccolo là Vabbè Eeeh Aspetta 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 Però sappiamo dove cercare Per il bar Per la video No scusate Il video non luce Quindi in teoria potresti cercare Nel 1932 E vedere se c'è qualche riferimento Al bar Vediamo Eccolo qua Ok C'è Ucciso dalla mafia Fossi in teme Andrei di corsa Ma tanto sei a casa E' tutto il tempo Del mondo Aiuto Ma cosa Vabbè Non so se mi sta simpatica O antipatica Questa tizia Ma come sono vestito elegante Sì E' un costume Per la recita scolastica Certo che lo so Spero di no Spero di no Non si fa Non si fa domande Su questa macchina Dunque cos'era Ehm No Aspettate Esamina No Ok 14 giugno Ah no 13 giugno 1931 Ok 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 Vai Muoviamoci però Dai Dai ce la possiamo fare Sei pronto Einstein? Boom baby Boom baby Oh cacchio Che cavolo Che cavolo Ops Chiedo scusa Signor vigile Ma non c'è bisogno Di spingere Questa violenza Contro le persone Oh oh Ok Boh La gente qua Ci spara Senza sapere nulla Vai Vai Perché è già qui Spegni tutto Che brutto il cane da dietro È un ripilante Ok ragazzi Direi di andare a scoprire Cosa succederà Nel prossimo episodio Quindi stop qui E ci vediamo Nella prossima parte Bye Bye